Un altro colpo da K.O. da una parte, un altro sorriso dall'altra. Dopo la giustizia penale anche quella civile si adegua e di fatto restituisce il porto turistico di L'Acquameno al comune del fungo, sancendo che il privato non ha alcun diritto a continuare a detenerne la gestione e quindi mettendo fuori l'ormai ex subconcessionario Giuseppe Perrella con la sua marina di Capitello. Un nuovo successo ottenuto dall'ente guidato da Giacomo Pascale, rappresentato dall'avvocato Nicola Patalano, che così consolida la sua posizione di nuovo gestore della struttura. A stabilirlo è stata una pronuncia della decima sezione civile del Tribunale di Napoli che porta la firma del giudice dottor Attanasio che ha disposto e confermato la restituzione da parte di Marina del Capitello Scarl a favore del comune di L'Acquameno dell'area portuale si legge già indebitamente occupata di complessivi metri quadrati 33.366,19, fermi gli effetti del disposto sequestro preventivo penale dello scorso 19 marzo. Marina del Capitello è stata anche condannata a pagare in favore del comune di L'Acquameno le spese di procedimento liquidate in complessivi 2.300 euro.